VIVA NO PARLA! Ah si sono... Mi è arrivata una lettera di... È arrivata una lettera in casa di... Di lamentela. Ci hanno detto che praticamente si stanno lamentati perché sentono urla e chiacchiere. Per tutto il giorno e tutta la notte. Che è vero. Mi scuso. Mi scuso veramente.